Gli aumenti del servizio idrico, Feder Consumatori non ci sta e mette a disposizione i propri sportelli per offrire consulenza ed assistenza legale agli utenti e ai consorziati della bonifica del centro, alla luce dei rincari, dei canoni per le attività agricole ed extra agricole. Mirco Luciani, legale di Feder Consumatori. Si parla di una zona molto ampia, molto vasta, dal foro al saline. Sì, la bonifica del centro ha questo perimetro di contribuenza vastissimo. Il problema qui fondamentalmente sono intanto gli aumenti che sono partiti già nel 2021 per la contribuenza ex agricola, addirittura del 70%. Per quanto riguarda invece gli agricoltori, la contribuenza scatterà ad aprile 2022, quindi di quest'anno, ed è pari al 30%. Perché questi aumenti? Il consorzio ha fatto una delibera, una delibera del settembre del 2021, in cui ha stabilito sia gli aumenti, ma sia un ulteriore balzello, un suppletivo 2021, che è già stato notificato come avviso di pagamento a moltissimi cittadini che ricadono appunto in questo perimetro. La giustificano perché devono gestire i corsi di manutenzione, di bonifica ordinaria, di gestione delle acque. In realtà, se si va a leggere bene, ci si accorge che loro stessi, nella delibera del 2021, del settembre 2021, dicono che hanno ingenti crediti da recuperare dal Comune di Chieti e dall'ACA S.p.A., che non riescono a recuperare, per cui fanno ricadere questo su tutti i consorziati. E questo non è possibile. I termini per un eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo purtroppo sono scaduti. Una curiosità, quanto ammontano i crediti? Stiamo parlando di circa 6 milioni dal Comune di Chieti e più o meno 5 giù di lì dall'ACA S.p.A. Quali iniziative pensate di intraprendere? Il Tar non è possibile a dirlo perché sono dei corsi termini. È una questione che ha diverse sfaccettature, politiche soprattutto. Le azioni stiamo cercando di studiarle al meglio, per tutelare al meglio tutti coloro che hanno questo problema. Quanto graverebbero? Per quanto riguarda, diciamo, gli ex agricoltori, una settantina di euro, ottantina di euro giù di lì all'anno. Per quanto riguarda invece gli agricoltori, questo va calcolato, come dicevo prima, in base agli ettari di terreno che sono serviti dal servizio. Possiamo arrivare anche a parecchi soldi. Da rete battaglia? Sicuramente, come sempre.